Ok, buonasera a tutti. Allora, vedo che qualcuno si sta collegando, sono in perfetto orario. Ciao Alessandra, ciao Barbara, ciao Deborah, Antonella, Selene, Loredana. Bene, allora vedo che già siamo un bel gruppetto numeroso. Non è una serata proprio eccezionale questa per fare una diretta, visto che abbiamo grandi concorrenze televisive, da una parte la partita, dall'altra parte abbiamo Alberto Angela. Farò del mio meglio per contrastare questi fenomeni mediatici. Allora, io stasera, per il solido appuntamento del martedì sera con le dirette di Evolution Travel, parlerò di Sri Lanka. Quindi passeremo quest'oretta parlando di questa splendida isola del subcontinente indiano e cercherò di raccontarvi un po' di cose che possano ammaliarvi e magari tentarvi magari per fare un viaggio in questa splendida isola. Se ci sono domande, come al solito, insomma, durante queste dirette, insomma, scrivetele tranquillamente sulla chat e cercherò, insomma, di rispondere mano a mano a eventuali domande. Allora, come ho detto, Sri Lanka, il titolo indica la lacrima dell'India, è un vecchio detto che definisce un po' questa isola perché a livello geografico si trova sotto all'India. Quindi è questa parte praticamente meridionale, questa zona meridionale del paese e quindi questa piccola isola che ha una forma proprio di lacrima e si trova proprio sotto il subcontinente indiano, in particolar modo sotto l'India. Non fa parte del territorio indiano, questo lo specifico perché una delle cose che spesso sento dire è che sia territorio, diciamo, della cugina maggiore india. In realtà è uno stato indipendente che, per motivi giustamente geografici, si trova molto vicino a questo paese, ha delle somiglianze, delle similitudini che comunque la rendono molto vicina a linea, ma in realtà ha tutta una sua storia e senz'altro anche a livello culturale, a livello religioso, si distingue nettamente proprio da questo grande paese. Stiamo parlando di un paese equatoriale, ci troviamo proprio a ridosso dell'Equatore, quindi con un clima abbastanza particolare perché comunque è un po' come tutte le destinazioni e i paesi che si trovano in quest'area sono interessati dal fenomeno del monzone. In questo caso poi magari lo vedremo in modo un pochino più dettagliato. La Sri Lanka è interessata da due tipi di monzone, è un monzone che proviene da sud-ovest, quindi dalla parte dell'oceano indiano, della zona praticamente delle Maldive, e poi da un monzone cosiddetto anche invernale invece che proviene da nord-est. Sri Lanka, isola tra le più grandi del pianeta, parliamo di circa 65.000 km quadrati come estensione, però non è uno stato così abitato come per esempio l'India o come tanti altri paesi che a livello di densità territoriale si contraddistinguono. Parliamo di circa 21 milioni di abitanti e quasi un milione poi concentrati nella zona di Colombo che è in parte anche la capitale amministrativa. Si divide praticamente in due. La capitale è una zona settentrionale dove c'è un po' il cuore amministrativo dello Stato e poi la zona commerciale che proprio si forma fondamentalmente con la città di Colombo che noi conosciamo un po' e dove c'è poi anche l'aeroporto internazionale e dove arrivano tutti i voli dall'estero. Francesca Giassiracusa dice terra e gente meravigliosa assolutamente sì gente molto solare sempre con il sorriso in bocca e poi credo anche legato un po' a una questione religiosa insomma il 75% se non ricordo male di gli abitanti è buddista e quindi insomma anche una religione molto collegata a questo aspetto così gioioso. C'è una piccola parte anche di hinduisti nella zona soprattutto nord del paese circa un 18-17% di hinduisti legati proprio all'etnia tamilla che proviene poi dall'India e c'è anche una nutrita insomma parliamo di una percentuale bassa ma comunque di una buona parte di cristiani di cattolici che sono soprattutto concentrati nella zona di Negombo a nord della capitale. Una cosa molto interessante è che soprattutto le persone che nel corso di tutti questi anni insomma si sono poi spostati in Europa soprattutto anche in Italia perché in Italia c'è una grande comunità singhalese proviene proprio da questa parte dello Sri Lanka che si trova sulla costa occidentale del paese vicino a Colombo e proviene da questa zona che è la zona di Negombo. Questa è una curiosità perché più di una volta mi è capitato di rapportarmi con singalesi che magari abitavano nella mia città e quasi tutti quelli che poi incontravano mi dicevano sempre che provenivano da Negombo quindi è assolutamente una certezza che non si può assolutamente sbentire. Come abbiamo detto un paese con circa 21 milioni di abitanti quindi insomma stiamo parlando quasi di due o tre città italiane praticamente messe insieme parliamo di città molto grandi che trae un po' la sua fortuna da dominazioni che si sono susseguite durante i secoli quindi parliamo prima di tutto dei portoghesi che si sono affacciati nel XVI secolo e che hanno poi dato il primo nome a questo paese con Silon quindi Ceylon insomma molte volte trovate anche le confezioni per esempio di tè che provengono dallo Sri Lanka e trovate la parola Silon Silon era diciamo il primo nome che poi viene dato insomma dai portoghesi in seguito viene viene portato avanti anche dagli olandesi fino poi agli inglesi che hanno dominato e quindi hanno colonizzato questo paese fino al 1948 quando poi la Sri Lanka ha ottenuto l'indipendenza diciamo dagli inglesi ed è nata l'attuale repubblica democratica socialista dello Sri Lanka da un punto di vista ecco così politico visto che abbiamo accennato un po' a questo a questo a questo aspetto insomma della colonizzazione proprio degli inglesi l'uscita poi l'uscita dei britannici da questo a questo paese ha creato delle 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 tensioni e nel subito dopo gli anni 70 quindi parliamo del 72 quando poi è stato eliminato il nome Silon e si è dato il nome attuale proprio di Sri Lanka ci sono stati delle delle tensioni che sono poi sfociate negli anni 80 in particolare nell'83 con la guerra civile che ha interessato fondamentalmente le le fazioni induiste del nord quindi la zona del del abitata da Itamil e tutto il resto del del paese quindi questa guerra civile che è durata 25 anni se non ricordo male è terminata nel 2009 con il praticamente con la distruzione ecco di questi di questo di questi terroristi perché poi comunque questi erano e sono stati definiti poi comunque un po' da tutti i governi dei terroristi Itamil da parte del governo del governo centrale e quindi la situazione è tornata alla normalità anche da un punto di vista turistico infatti fino a qualche anno fa viaggiare nello si rilanca non era non era così accessibile come lo è fortunatamente adesso quindi molte aree soprattutto quelle del nord e soprattutto quelle della parte orientale erano off limits per il turismo e per i turisti perché c'erano purtroppo grossi rischi e spesso e volentieri ci sono stati poi nel corso di questi di questi anni insomma abbastanza drammatici ci sono stati tanti attentati che in alcune occasioni hanno purtroppo anche coinvolto turisti stranieri ormai dal 2010 si è praticamente stabilizzata la situazione è praticamente stato debellato il terrorismo chiamiamolo così al nord e infatti la parte soprattutto settentrionale che un tempo era una roccaforte delle famose Tigre Tamil adesso è incominciato ad entrare nei circuiti turistici chiaramente c'è molto da fare perché durante la guerra parecchie parecchi diciamo parecchie città parecchi villaggi molte zone sono state bombardate quindi inevitabilmente il governo poi ha dovuto e sta facendo tantissimo per ricostruire tutte quelle che erano le infrastrutture che un tempo facevano parte di questo territorio questo vale anche chiaramente a livello turistico per ciò che riguarda per esempio alberghi strade tutto ciò che ci deve essere per poter visitare una zona assolutamente affascinante perché ci sono delle parti molto molto belle soprattutto all'estremo nord nella zona di Jaffna che era un po' la capitale dei Tamil e via via tutte le altre le altre parti che un tempo erano controllate dai terroristi fino a la parte est del paese che è caratterizzata soprattutto dalle bellissime spiagge è una delle zone che a mio avviso merita una visita ma merita soprattutto un soggiorno balneare per chi magari vuole abbinare un tour classico del paese e terminare poi magari con una settimana con qualche giorno di mare in quella zona quindi ci sono delle località per esempio Nilavelli Trincomalee Passicudà che erano delle zone che un tempo era impossibile era veramente impossibile visitare perché erano proprio diciamo abitate da guerriglie insomma tamile quindi molto pericolosa da visitare in questi ultimi anni hanno costruito tantissimi alberghi in quella zona quindi il turismo è ripartito alla grande e soprattutto nel periodo estivo rimane un punto di riferimento per chi vuole da una parte fare un tour culturale nella zona soprattutto settentrionale del paese centrale del paese e poi spostarsi praticamente a est e fare qualche giorno di mare da un punto di vista climatico visto che abbiamo parlato all'inizio della posizione del paese che è una zona equatoriale quindi ha un clima abbastanza caldo come ho detto prima lo Sri Lanka è interessato dal monzone che è questo fenomeno che si forma sull'oceano indiano e si porta durante i mesi estivi quindi partendo più o meno da aprile e maggio verso il nord dell'India andando ad impattare sulla catena imalaiana trovando una barriera e poi ritornando così facendo in pratica una sorta di parabola e riscendendo verso sud e quindi creando in pratica due tipi di monzone il primo è il monzone quello estivo che troviamo ripeto da maggio fino ad agosto e comprende un po' tutta quest'area del sud continente indiano e in particolar modo per ciò che riguarda lo si rilanca la parte centro-occidentale e poi questo monzone chiamiamolo invernale è un monzone di ritorno quindi che riscende giù verso attraversando la baia del Bengala ed arrivando verso lo si rilanca quindi di nuovo ogni oceano indiano verso i mesi di settembre ottobre novembre quindi per una questione proprio di spostamento di masse d'aria quindi anche di venti e quindi di pioggia va considerata soprattutto l'estensione mare sempre tenendo presente come questo monzone si va delineando e quindi anche il periodo in cui si decide di fare un viaggio nello Sri Lanka soprattutto per chi ha voglia di fare qualche giorno di mare quindi vuole magari passare qualche giorno in spiaggia deve considerare questi aspetti detto questo vediamo quelle che sono poi i periodi migliori per esempio per andare per andare nello Sri Lanka io parto sempre dal presupposto che come per l'India e come per tanti altri paesi che comunque ruotano in questa in quest'area un viaggio è possibile praticamente tutto l'anno per morestando la possibilità in determinati periodi che sono un po' quelli che vi ho indicato quindi soprattutto quelli legati alla nostra estate quindi soprattutto i periodi di giugno luglio agosto la possibilità di poter prendere qualche qualche giorno magari di pioggia che generalmente si traduce in acquazzoni che possono durare un'ora un'ora e mezza e poi abbandonano un po' il abbandonano la zona e quindi si può assolutamente prevedere un viaggio un po' tutto l'anno questo anche in virtù del fatto che soprattutto la parte centrale è una parte montuosa montuosa per modo di dire tenete presente che la montagna più alta la montagna più alta del la montagna più alta dello Sri Lanka che è la Dampik non arriva nemmeno a 3000 metri quindi insomma stiamo parlando veramente di scimmie abbastanza abbastanza basse però questa zona collinare soprattutto che troviamo nella parte centrale del paese porta comunque variabilità praticamente tutto l'anno quindi ci si può andare anche nel periodo che teoricamente potrebbe essere definito migliore quindi il periodo magari più secco il periodo dove comunque fa caldo ma è anche abbastanza secco ma la giornatina di pioggia o il periodo di pioggia si può comunque si può comunque prendere credo che l'attenzione maggiore va al periodo va rivolta solamente se si decide comunque di fare una un'estensione mare quindi qualora decidiate di fare un giro dello Sri Lanka e di passare gli ultimi giorni al mare ricordare di di scegliere la zona per esempio sud occidentale durante il nostro inverno quindi parliamo praticamente da ottobre fino a marzo aprile e invece al contrario utilizzare scegliere la parte est del paese quindi la zona di cui parlavo prima quindi quella di Nilavelli di Trincomale di Passi Cuda soprattutto nel periodo estivo quindi da maggio fino a settembre che è la zona un po' più riparata quindi in quel momento il mare è anche più calmo generalmente non piove mentre sulla parte occidentale il vento tira molto più con molta più più forza e la balneabilità è abbastanza limitata e la possibilità di prendere pioggia è abbastanza elevata a tal proposito colgo l'occasione di rispondere alla domanda che mi fa Manuel che è abbastanza calzante com'è il mare nello Sri Lanka allora per quanto si stia parlando di un'isola quindi totalmente bagnata dal mare ci troviamo anche in pieno diciamo in oceano indiano il mare va comunque preso un po' con le pinze ecco non voglio assolutamente dare una valutazione negativa parliamo sicuramente di una di spiagge molto molto belle molto ampie quindi grandi distese di sabbia palme dappertutto il mare è un pochino un pochino mosso quindi tranne alcune zone che sono un pochino più coperte generalmente il mare dello Sri Lanka è un pochino più mosso parliamo chiaramente di oceano quindi non ci possiamo aspettare senz'altro il mare che è possibile trovare in altre zone della terra quindi è importante capire il motivo per cui chi va generalmente a fare un tour dello Sri Lanka lo fa dedicando poi eventualmente due tre giorni massimo questo è un po' quello che mediamente noi verifichiamo e consideriamo tre giorni di mare per rilassarsi magari per fare qualche massaggio però non è senz'altro il posto per fare una settimana di mare generalmente nessuno parte dall'Italia per farsi una settimana al mare dello Sri Lanka non perché non sia possibile ovviamente ma perché probabilmente si possono scegliere mete completamente diverse più adatte ad un soggiorno completo da fare praticamente in spiaggia però ci sono tante zone molto molto belle che si possono scegliere soprattutto la parte orientale del paese ha delle spiagge per esempio Nilaveli o Trincomalè che hanno anche un pochino di barriera corallina quindi la balneabilità è assolutamente assolutamente ottima e si può godere insomma di un di un di un di un po' di relax anche facendo facendo mare lo Sri Lanka è anche famoso per anche per esempio per windsurf o il kitesurf quindi se ci sono degli appassionati anche per perché in alcune località il vento batte molto batte molto forte quindi sono punti ideali soprattutto per praticare determinati spot acquatici e nello stesso tempo sempre nella parte soprattutto meridionale per chi invece è appassionato di cetacei per esempio e comunque vuole fare un'esperienza molto molto bella nel periodo quello che va da dicembre fino a marzo aprile è possibile soprattutto nella zona meridionale quella che va da mirissa a tangalle si possono fare delle escursioni per avvistare le balene e per avvistare anche per esempio i delfini e quindi senz'altro un'altra esperienza molto molto interessante Alessandra mi chiedi quali città consigli per un tour e quindi quanti giorni minimo occorrono allora introducendo la parte quindi viaggio come suddividere un viaggio nello Sri Lanka che zone scegliere e cosa visitare bisogna un po' fare una suddivisione proprio delle zone abbiamo introdotto all'inizio la parte all'estremo nord che attualmente è una zona poco turistica si sta da pochissimi anni affacciando al turismo di massa ma ovviamente non avendo ancora grandissime infrastrutture fatica ad entrare nei circuiti quelli classici quando parliamo di tour all'interno del paese parliamo soprattutto della zona del triangolo culturale che è diciamo la parte più importante da un punto di vista storico da un punto di vista culturale da un punto di vista anche archeologico del paese e quindi parliamo delle tre città più importanti che sono Anuradapura che è la prima capitale quindi la vecchia capitale dello Sirianca parliamo del regno proprio di Anuradapura parliamo di Polonarua che è un'altra capitale che ha seguito poi Anuradapura il regno di Anuradapura e poi parliamo di Kendi che è quest'altra città diciamo a sud del triangolo culturale è una città molto importante soprattutto da un punto di vista religioso perché c'è un tempio che custodisce una religione del Buddha in particolar modo un dente e quindi è la città sacra per eccellenza nello Sri Lanka e attira migliaia migliaia di persone ogni giorno all'interno di questo triangolo culturale importantissimo parlare anche di Sigiria che è un villaggio dove sorge una chiamiamolo un masso molti di voi avranno visto sicuramente su qualche catalogo o su qualche documentario praticamente una grandissima roccia che è alta circa 200 metri sulla cui sommità un tempo sorgeva una vera e propria città che era abitata dal re che governava il regno dei Cassiapa che era una diciamo una dinastia vissuta in lo Sri Lanka e serviva praticamente per potersi difendere dai vari attacchi quindi una delle visite più importanti che generalmente si fanno quando quando si visita questo paese è la salita alla roccia di Sigiria quindi si fa tutto un percorso abbastanza abbastanza faticoso insomma posso tranquillamente dire che non è proprio per tutti quindi per chi magari ha un po' problemi di deambulazione o comunque ha problemi magari di affaticamento e così via magari non è una visita proprio suggerita in modo pieno ci vogliono circa due ore per salire in cima c'è tutto un percorso con delle scale delle scale costruite sulla roccia e altre costruite magari in ferro quindi si raggiunge poi la sommità e c'è ci sono praticamente i ruderi di questa vecchia di questa vecchia città è molto interessante perché durante il tragitto si possono anche visitare delle grotte al cui interno ci sono ancora delle rappresentazioni rupestri degli affreschi dei disegni che sono stati che sono stati fatte durante questi durante questi secoli un'altra città importante quindi anche un po' per rispondere alla domanda di alla domanda di di Alessandra è Dambulla che si trova molto vicina a Sigiria famosa soprattutto per le sue grotte anche in questo caso sono delle grotte costruite all'interno di una praticamente di una zona collinare una zona rocciosa poi soprattutto quindi scavate all'interno di questa di questa di questa zona e sono piene praticamente di statue di affreschi e di iscrizioni rupestre quindi veramente molto molto interessante ed è una delle visite più belle che si possono fare in questo paese nel presente che lo Sirilanka vanta numerosissime numerosissimi siti ma anche città che sono stati poi nel corso degli anni inseriti nella lista diciamo dei siti patrimonio dell'UNESCO quindi ha veramente un grosso valore non solo storico ma anche ma anche culturale quindi generalmente quando parliamo di un tour noi arriviamo a a Colombo l'aeroporto non è proprio vicino a Colombo è molto più vicino a quella cittadina di cui vi parlavo prima cioè a praticamente Negombo e poi da lì di solito ci si sposta verso la parte centosettentrionale del paese quindi andando a dedicare circa due tre giorni per la visita di queste città quindi Anuradapura Sigiriya Polonnarua e anche Dambulla da lì poi si scende verso sud e si incominciano a visitare quelle che sono le città che fanno parte poi della zona collinare cosiddetta collinare dello Sibilano quindi parliamo di Kendi di cui parlavo prima quindi questa città che da un punto di vista religioso è importantissima e ci sono pellegrinaggi veramente da tutto il mondo da perlomeno quelli che comunque ritengono importante questa religia e quindi comunque per il buddismo in generale Lucia mi chiede ci sono vaccinazioni obbligatorie per andare in Sirilanca allora vaccinazioni obbligatorie no nel senso che non c'è nulla di obbligatorio per entrare nel paese direi che perlomeno negli ultimi negli ultimi anni io non ho suggerito alcuna vaccinazione perché il diciamo il sistema il sistema sanitario è assolutamente all'avanguardia non ci sono focolai di malattie o problematiche di questo tipo i circuiti sono abbastanza sono abbastanza come dire battuti e sicuri si utilizzano strutture di ottimo livello questa è un po' anche la caratteristica di questo di questo paese quindi le possibilità di contrarre una malattia sono veramente molto molto basse è chiaro che poi dipende molto da come si decide di viaggiare di dormire e anche di mangiare perché ovviamente se si si vuole dormire in posti abbastanza dubbi e abbastanza infimi e poi mangiare magari per strada dove il cibo insomma non si sa come viene cucinato non si sa come viene conservato le le possibilità in questo caso di prendersi qualcosa che potrebbe essere magari anche il tifo insomma o cose di questo tipo insomma ci possono sicuramente essere però per chi decide comunque di viaggiare in modo organizzato problemi assolutamente non ce ne sono in tanti anni insomma che ormai sono quasi 17 anni che organizziamo viaggi all'interno del subcontinente indiano problemi con malattie di questo tipo non ce ne sono state poi ovviamente ognuno è libero di poter decidere con con la propria con la propria coscienza e fare magari utilizzare delle precauzioni che non sono solamente legate a un modo di gestire il cibo e il proprio pernottamento ma anche legate un po' a quelli che possono essere i suggerimenti che provengono magari dal proprio medico curante o ancora meglio da quelli che sono gli uffici di igiene della propria città che di solito possono suggerire magari qualcosa da fare ecco per chi è un pochino più timoroso e per chi vuole stare proprio al 100% più tranquillo si può magari suggerire una profilassi per il tifo ma proprio per stare tranquillo è eventualmente un ricamo per l'epatite A ma ripeto io personalmente non consiglio assolutamente nulla parlando sempre di itinerari quindi ritornando un po' all'aspetto viaggio come abbiamo detto quindi ci si sposta verso la parte nord del paese percorrendo un po' tutte le tappe del triangolo culturale poi ci si sposta mano a mano verso sud e andando verso sud ci troviamo ad incontrare due città molto importanti la prima è abbiamo detto Candy che è questa capitale religiosa del paese e ancora più a sud Nuarelia che è una città collinare si trova quasi in montagna possiamo dire ed è una vecchia stazione una vecchia stazione collinare che veniva utilizzata al tempo della al tempo delle colonie inglesi per per così per rifrescarsi quindi gli inglesi che abitavano nella zona nella zona occidentale sulla costa occidentale durante l'estate quando il caldo incominciava ad essere insopportabile l'umidità incominciava a farsi sentire si spostavano praticamente verso le colline e quindi Nuarelia è diventato un po' un centro un centro abitato proprio dagli inglesi infatti se avrete la possibilità di visitare questa città vi accorgerete come tutte le costruzioni e tutte le abitazioni sono sono state poi concepite e costruite in in stile coloniale quindi molto molto particolare una piccola una piccola Inghilterra all'interno di questa di questo di questo paese una volta fatta la parte collinare che comprende anche per chi vuole un po' approfondire meglio la zona la zona la zona centrale del paese si può ci si può spostare anche verso Ella che è un'altra cittadina molto importante ed insieme alla zona di Noirelia racchiude la più alta concentrazione di piantagioni di tè vi ricordo che lo Sri Lanka è uno dei produttori maggiori al mondo di tè e molto di quel tè che noi quotidianamente consumiamo almeno chi lo consuma e chi lo beve proviene proprio dallo Sri Lanka nonostante questo diciamo l'economia non si basa più su questo su questa bevanda quindi sulla coltivazione e la lavorazione la raffinazione poi della pianta del tè e quindi rispetto a un tempo quando diciamo nel periodo coloniale quasi l'85% della struttura economica di questo paese si basava proprio sulla produzione e sull'esportazione di questa bevanda adesso si è ridotta notevolmente siamo intorno al 30% e ci sono tante altre cose che hanno un po' come dire sostituito a livello economico queste risorse e quindi parliamo per esempio di attività alimentari di tessile soprattutto quindi tanti abiti magliette scarpe provengono proprio dallo Sri Lanka la monodopera è sicuramente più a buon mercato rispetto a tanti paesi occidentali quindi tanti prodotti vengono proprio prodotti vengono diciamo la manifattura proviene proprio dallo Sri Lanka quindi ritornando all'aspetto tour abbiamo detto Candy abbiamo detto Nuarelia e abbiamo detto anche Ella da Ella poi si può per chi vuole magari fare qualche giorno per esempio di trekking vuole fare un'esperienza molto interessante ma bisogna avere magari un po' di gambe e anche un po' di fiato si può fare la scalata della montagna di cui avevamo parlato prima proprio dell'Adam Peak che è la montagna più alta dello Sri Lanka che stiamo intorno ai 2500 metri di altitudine anche questa è una cosa che spesso viene viene chiesta un'altra escursione interessante che ci viene spesso ci viene spesso chiesta è il treno delle piantagioni di tè questo trenino molto caratteristico che si prende nella zona di Candy e scende in pratica verso Nuarelia e verso Ella attraversando tutte queste piantagioni una bella esperienza che si può senza altro fare anche per provare diciamo l'ebbrezza di questo mezzo di trasporto che in queste zone attraversa in modo netto tutte queste piantagioni di tè Alessandra mi chiede quale moneta utilizzano la moneta che viene utilizzata in Nero Sri Lanka è la rupia la rupia cingalese viene utilizzata la stessa moneta che si utilizza diciamo in India oppure anche per esempio per esempio in Nepal però anche per una questione pratica sia l'euro che il dollaro viene accettato praticamente ovunque sia per pagare magari pranzi scene o extra all'interno di alberghi e di ristoranti ma anche per esempio per fare acquisti quindi si può assolutamente utilizzare anche la nostra moneta un'altra cosa che è importante sottolineare in previsione di una visita a questo paese è la presenza la presenza di numerosi parchi nazionali il verde la natura le foreste dominano praticamente tutto il paese e all'interno quindi di questo vasto territorio ci sono numerosissime riserve che sono state nel corso degli anni create dal governo singalese ce ne sono alcune piccoline ce ne sono alcune molto grandi qui dipende molto dal tempo che si ha a disposizione in genere quasi tutti scelgono la riserva di Yala quindi il parco nazionale di Yala che si trova nella parte meridionale del del paese questo sia perché è un parco molto grande e sia perché la presenza di animali è un pochino più concentrata quindi la possibilità comunque di avvistarne è abbastanza abbastanza buona chiaro che quando parliamo di riserve asiatiche e quindi di parchi nazionali in in Asia bisogna sempre fare una distinzione con quelli che sono invece i parchi per esempio africani che sono molto più popolati insomma da da animali quindi la possibilità di vederne è molto molto più alta quindi è chiaro che bisogna comunque sapere che la diciamo la popolazione faunistica del dello Sri Lanka è abbastanza 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 importante ma non paragonabile a quella chiaramente dei parchi dei parchi africani si possono vedere elefanti soprattutto ce ne sono veramente tantissimi si rilanca si possono avvistare leopardi si possono avvistare scervi tantissime scimmie rettili coccodrilli insomma c'è una buona varietà di animali all'interno di queste riserve e il parco nazionale di Yala come dicevo è senza dubbio quello che offre maggiori possibilità ce ne sono poi tanti altri mi viene in mente quello di mineria per esempio che ha la più alta concentrazione di elefanti all'interno di un unico parco e ce ne sono ripeto svariati sia nella parte centrale che anche nella parte settentrionale del paese quindi visitando uno stato di questo tipo la diciamo la necessità di inserire comunque durante il viaggio la visita di un di un parco secondo me è abbastanza abbastanza ovvia e praticamente viene richiesta un po' da tutti c'è una piccola eccezione da fare per ciò che riguarda i parchi naturali nello Sri Lanka che è legata soprattutto al periodo perché nel periodo che va da agosto fino a settembre in questi due mesi settembre soprattutto per una questione climatica legata chiaramente al monzone soprattutto invernale che quindi riscende dall'India verso lo Sri Lanka le precipitazioni sono abbastanza importanti e quindi il governo spesso e volentieri quando ci sono precipitazioni direi belle belle forti tende a chiudere questi questi parchi quindi bisogna anche capire un po' il periodo in cui poi si decide magari di fare una visita di questo tipo però in generale durante l'anno non ci sono grossi non ci sono grossi problemi una volta quindi poi fatta la visita dei parchi si può decidere ci sono diverse scelte che si possono fare allora Manuel mi chiede se in questi parchi si può anche andare da soli oppure serve per forza una guida sì assolutamente allora si paga un permesso e il permesso è vincolato chiaramente all'utilizzo di una agenzia che sia autorizzata ad organizzare dei safari all'interno della riserva ce ne sono svariate la nostra è ovviamente una di quelle accreditate però non è assolutamente fattibile la visita all'interno del parco magari con un mezzo proprio cosa che per esempio può accadere in molti parchi africani mi viene in mente la Namibia dove uno può entrare col proprio mezzo se la gira come vuole e nessuno dice niente paga praticamente però in genere questo avviene esclusivamente con dei mezzi proprio o della riserva o delle agenzie che sono abilitate a questa a questa visita una volta che abbiamo finito un po' le cose più importanti da vedere quindi la parte culturale storico-culturale del nord la parte naturale del centro e del sud quindi con la con la zona collinare la zona delle piantagioni e poi la parte meridionale eventualmente con la visita di un parco nazionale si può decidere o di rientrarsene a casa perché ci sono molte persone che decidono comunque di fare esclusivamente un tour e poi tornarsene a casa e questo si può tradurre in un viaggio di circa 6-7 notti quindi una classica settimana si può dedicare esclusivamente alla visita delle città che vi ho elencate in altri casi poi ci si può decidere di fare un'estensione mare quindi a seconda del periodo ci si sposta verso est quindi nel periodo estivo andando verso la zona di Nilavelli Trincomalè Passaigutà che sono zone balneari molto famose e molto e molto belle oppure nel caso in cui stiamo viaggiando nel periodo internale spostarsi verso la zona occidentale in particolare la zona centro meridionale del paese quindi per intenderci da Colombo che si trova a metà strada quindi a metà dell'isola scendendo verso sud e da lì ci sono numerosissime località che possono essere suggerite per fare mare sono tutte molto caratteristiche ma possono essere scelte anche a seconda di quelle che sono le esigenze o i bisogni che ha il cliente ci sono delle località per esempio isolate delle località invece immerse un po' in mezzo a diciamo alla confusione in mezzo un po' anche alla presenza di locali di ristoranti eccetera eccetera per esempio mi viene in mente Bentota e io definisco sempre la Rimini dello Sri Lanka perché è una delle località assolutamente più gettonate del del paese sia perché c'è un'altissima concentrazione di alberghi ma soprattutto perché c'è un'altissima concentrazione di locali notturni di ristoranti quindi per chi vuole soprattutto un po' di vita notturna quella zona lì è assolutamente consigliata quindi per esempio Bentota e anche ci metterei Icadua sono delle zone che comunque attirano molto questo tipo di clientela che vuole magari anche un po' di movimento serale andando invece spostandoci invece verso sud troviamo quasi sempre delle località invece un pochino più tranquille che sono di solito formate quasi sempre esclusivamente da alberghi quasi tutti sul mare da qualche ristorante ma la sera generalmente si rimane all'interno dell'albergo e ci si rilassa questo quindi vale per esempio per Mirissa che si trova nel sud del paese che è una di quelle località che io suggerisco sempre quando si vuole fare un po' di mare bello ma anche rilassarsi quindi non avere il caos che si trova soprattutto nella zona di Bentota in quella parte in quella parte lì come dicevo prima ci sono anche delle delle località che sono adatte a sport a sport diciamo acquatici come per esempio il kitesurf o il windsurf perché sono zone battute molto dal vento e quindi possono essere ideali magari per fare un po' di quel tipo di diciamo di di attività Lucia mi chiede ma quindi agosto è stagione delle piogge sì diciamo che agosto senza altro luglio agosto è un periodo in cui la possibilità di prendere la pioggia è abbastanza buona però da un punto di vista balneare se ci si sposta sulla parte est del paese quindi andando ad oriente normalmente non si hanno grossi problemi perché da quella parte non c'è ancora non è ancora arrivato il cosiddetto monsone monsone invernale che generalmente arriva verso settembre ottobre quindi se la domanda è legata all'aspetto balneare è assolutamente evitare la parte occidentale e spostarsi sulla parte orientale mentre tutta la parte centrale e anche la parte del triangolo culturale diciamo che a nord sicuramente la possibilità di prendere pioggia c'è come c'è comunque durante tutto l'anno anche nella zona collinare sia di candy che di nuore via questo paradossalmente è uno dei motivi per cui comunque il paese può essere visitato praticamente tutto l'anno sempre perché la variabilità soprattutto nella parte centrale è sempre abbastanza è sempre abbastanza alta per quanto riguarda gli aspetti pratici ho visto che nessuno mi ha fatto domande circa i documenti o circa così quelle che possono essere le formalità di ingresso all'interno del paese per entrare nel paese ci vuole un passaporto con una validità residua di sei mesi quindi è importante controllare il passaporto prima della partenza e è necessario un visto d'ingresso il visto si ottiene online ormai come tanti altri paesi quindi sia molto si è molto velocizzata questa procedura basta collegarsi con il sito del del ministero del diciamo del ministero del turismo dello Sri Lanka e si può compilare una sorta di forma che permette l'accesso e indicando praticamente un po' il percorso che verrà fatto il volo di arrivo e pagando una fiche di 40 dollari quindi alla fine della registrazione vi si darà la possibilità di inserire i dati della carta di credito e quindi nel giro poi di qualche ora si ottiene direttamente via mail il il visto il visto turistico quindi questa è un po' la formalità molto semplice tecnicamente si può fare anche il giorno prima di partire io suggerisco chiaramente di farlo sempre qualche giorno prima per essere per essere sicuri e per non avere grossi dei grossi problemi però ovviamente meglio farlo meglio farlo per tempo da un punto di vista delle sistemazioni alberghiere considerando anche la domanda che mi sta facendo Silvia Silvia Doria ci sono numerosissime possibilità per morestando che la diciamo l'offerta l'offerta ricettiva nello Sri Lanka non è così alta come altri paesi per esempio la Thailandia o come per esempio l'India quindi è importante se si vuole dormire in posti ben definiti o in posti particolari prenotare con largo anticipo come per altre destinazioni parlavo tempo fa per esempio delle Seychelles ma potrei parlare anche di altri di altri paesi le possibilità di beccare un overbooking soprattutto quando ci si organizza un po' così all'avventura sono molto sono molto alte questo perché le strutture non sono molto grandi quindi non esistono albergoni megagalattici tranne in alcune zone balneari e quindi la possibilità di imbattersi in questa pratica in questa pratica abbastanza fastidiosa sono molto sono molto sono molto sono molto altra soprattutto in alta stagione si può dormire in alberghi cosiddetti cosiddetti diciamo di basso di basso profili paragonabile un po' alle guest house ma non è la tipologia di strutture che noi suggeriamo uno per la scarsa igiene che si trova all'interno di queste strutture e sia anche per la possibilità soprattutto a volte di non trovare posto si parte generalmente da strutture tre stelle che sono assolutamente di ottimo livello e paragonate per esempio a quelle strutture che noi troviamo per esempio in Italia sono assolutamente di più alto profilo da qui poi si passa a strutture superiori paragonabili ai quattro stelle ai nostri quattro stelle anche se non c'è una categoria questa è una delle caratteristiche dello Sri Lanka che le categorie alberghiere non sono ben definite non c'è una definizione proprio precisa quindi spesso ci ritroviamo di fronte ad alberghi che sono molto molto belli ma poi possono essere diciamo catalogati come per esempio tre stelle magari ufficialmente sono dei quattro stelle quindi non c'è una definizione proprio precisa il governo sta lavorando anche soprattutto su una identificazione più più corretta perché se no si rischia veramente di trovarsi di fronte a una a una giungla di diciamo di offerte che non sono ben ben chiare quindi si vendono a volte strutture che non sono che non sono pubblicizzate nel modo nel modo migliore noi cerchiamo chiaramente essendo un po' anche addetti ai lavori e visitando anche annualmente almeno un paio di volte l'anno tutte le strutture che poi proponiamo di essere il più possibili obiettivi questo fa sì anche che per esempio la presenza di strutture cosiddette 5 stelle non è così alta come in tanti altri paesi quindi è veramente molte volte difficile riuscire a trovare strutture che siano catalogate come veri e propri 5 stelle soprattutto nelle zone balneare troviamo dei resort e la categoria può essere così definita superior ma identificare un 4 stelle o un 5 stelle non è cosa molto molto semplice quindi è molto importante anche fidarsi dei professionisti quindi di chi comunque conosce e valuta questi alberghi queste strutture alberghiere e lo fa nell'ottica di quello che poi il cliente generalmente cerca soprattutto per ciò che riguarda la clientela italiana che è una clientela abbastanza esigenza abbastanza particolare che va insomma istradata in modo più che corretto perché se no si rischia di avere logicamente dei problemi Andrea Alessandra mi chiede se ci sono voli diretti non ci sono voli diretti dall'Italia o perlomeno non ce ne sono più perché un tempo parliamo di circa 6-7 anni fa esisteva un volo diretto della Sri Lankan che è la compagnia di bandiera dello Sri Lanka poi c'è stato un dietrofront e quindi per raggiungere il paese bisogna comunque fare uno scalo dipende molto dalla compagnia che ovviamente si prende le compagnie del golfo sono quelle che hanno il maggior numero di voli e di collegamenti dall'Italia quindi parliamo per esempio di Emirates parliamo di Etihad parliamo di Omanair però parliamo anche di altre compagnie per esempio come Tarkish Airlines che fa scalo a Istanbul quindi in Turchia e ci sono comunque altre compagnie per esempio Qatar ma anche anche compagnie europee che comunque possono raggiungere questo paese a livello di costi a livello di costi un volo per lo Sri Lanka si aggira intorno ai 600 650 euro quando troviamo delle buone tariffe ma si possono trovare anche delle ottime tariffe soprattutto quando in bassa stagione le compagnie tirano fuori delle offerte diciamo da non perdere quindi parliamo per esempio di tariffe intorno ai 500 a volte anche sotto i 500 euro per ciò che riguarda invece il diciamo la parte tour quindi tutto quello che è il servizio a terra escluso il volo lo Sri Lanka non è un paese così economico come come l'India però parliamo di un di un paese dove si può viaggiare senza spendere cifre cifre esorbitanti è sicuramente come ho detto più costoso rispetto al cugino maggiore e questo è legato soprattutto al costo dei servizi quindi dei trasporti e delle guide ma anche soprattutto alla questione alberghiera proprio per il fatto che diciamo il numero delle strutture alberghiere non è così elevato parlo di strutture alberghiere di un certo spessore non è così elevato come in altre in altre destinazioni quindi questo poi ricade inevitabilmente nella formulazione di un di un prezzo per notte all'interno di una struttura alberghiera parlando di struttura alberghiere Manuel mi chiede solitamente consigliato il trattamento di BB allora questo dipende molto dai clienti come ho detto come ho detto prima ci sono delle località dove poter cenare fuori la sera è molto semplice quindi per esempio Bentota è una di queste ci sono invece altre località direi la maggior parte delle località soprattutto quelle che ruotano all'interno del triangolo culturale e nella zona collinare dove non c'è una grandissima offerta di locali ristoranti per così dire serali quindi diventa molto difficile per un cliente uscire magari da una struttura alberghiere trovare dei ristoranti o dei locali che siano adatti magari al proprio palato quindi quello che noi generalmente suggeriamo è la mezza pensione quindi la colazione e la cena da fare in albergo oppure in molti casi addirittura noi consigliamo la pensione completa perché spesso quando si fanno delle escursioni durante il giorno ci si sposta in zone molto isolate dove non c'è grossa alternativa quindi è più comodo per noi poter spostare il cliente in un albergo oppure in un ristorante che magari conosciamo e far fare il pranzo direttamente lì quindi la pensione completa diventa la soluzione che quasi tutti gli operatori utilizzano per i propri clienti però ripeto se il cliente vuole comunque essere libero di fare ciò che vuole assolutamente possiamo proporre tranquillamente anche il B&B Alessandra mi chiede qual è il budget minimo per un viaggio volo incluso allora dipende chiaramente dai periodi però ipotizzando un periodo come questo siamo intorno a marzo aprile quindi non siamo ancora in altissima stagione non siamo ancora arrivati per esempio al periodo pasquale dove i prezzi sono abbastanza alti direi che un tour di una settimana quindi di circa sette notti si può girare intorno ai 1.700 1.800 euro tutto compreso quindi parliamo di volo parliamo di alberghi 3-4 stelle parliamo di pensione completa e parliamo soprattutto di macchina a disposizione quindi il viaggio generalmente è strutturato e quasi tutti organizzano viaggi di questo tipo con una macchina che viene data a disposizione del cliente ma non è chiaramente un self drive c'è un autista che nello stesso tempo fa anche da guida quindi una persona uno chauffeur che nello stesso tempo è abilitato a fare da guida quindi è preparato per comunque spiegare tutto ciò che c'è da spiegare durante il viaggio e che quindi accompagnerà i clienti durante il viaggio quindi è una persona che vi viene a prendere in aeroporto vi fa chiaramente fare del viaggio con lui per tutto il tragitto e mano a mano che si andranno a toccare le varie località e le varie città vi farà visitare logicamente i singoli siti e vi spiegherà tutto quello che c'è da spiegare quindi con 1700 e 1800 si può fare un viaggio di questo tipo completo dipende ovviamente come abbiamo detto prima da tante variabili insomma la prima è senz'altro il volo ma ha soprattutto anche il periodo di viaggio quindi ci sono periodi tipo Pasqua dove i voli già hanno superato abbondantemente i 1000 euro a persona e ci sono invece periodi come questo dove si possono trovare anche delle offerte sotto i 500 euro e quindi fare un viaggio che insomma si può aggirare anche sotto i 1700 1600 euro ma ripeto dipende molto anche da quante notti e dal tipo di strutture che poi una persona una persona chiede ci sono altre domande magari curiosità allora un'altra un'altra cosa intanto che magari qualcuno ha bisogno di fare qualche altra domanda un'altra cosa importante da sottolineare per ciò che riguarda questo paese è la vicinanza alle isole maldive ci parliamo di circa un'ora di volo da Colombo a Male che è la capitale delle isole maldive e quindi questo lo rende appetibile per un'eventuale estensione mare sicuramente in un posto che da un punto di vista del mare della balneabilità superiore rispetto allo sirilanca quindi noi riceviamo tantissime richieste di combinati in cui si fa una parte di tour quindi magari si dedicano 4-5 giorni per visitare le cose essenziali dello sirilanca del paese e poi si ritorna a Colombo e da Colombo si prende un volo per le isole maldive si passa magari una settimana o anche 5 giorni quindi dipende dalle esigenze del cliente e direttamente dalle dalle maldive si rientra si rientra in Italia quindi non solo una scelta di coppie magari che vogliono fare un viaggio di nozze e quindi abbinare una parte culturale una parte così di relax ma anche famiglie amici anche singola addirittura che comunque vogliono abbinare il paese a un mare sicuramente un pochino più un pochino più più bello di quello che possono trovare sulle coste sulle coste singalesi è chiaro che quando decidiamo di fare un'estensione un'estensione alle isole maldive il portafoglio deve essere leggermente più gonfio perché ovviamente il costo di una struttura per quanto semplice per quanto modesta alle isole maldive sarà ovviamente molto più costosa rispetto a un albergo dello Serilango oltre alla considerazione del volo che rientra dalle maldive che è generalmente più oneroso rispetto a quello che noi utilizziamo in andata e ritorno su Colombo quindi c'è una piccola tratta in più che generalmente la compagnia assorbe ma che leggermente fa aumentare il costo del viaggio quindi qui a seconda un po' delle tasche si può decidere se fare o meno un'estensione alle isole maldive Carolina mi chiede quale moneta utilizzano l'avevo spiegato già prima la rupia la rupia lo stesso la stessa unità di misura diciamo dell'India del Nepal insomma di questi paesi che ruotano intorno al subcontinente al continente indiano però come ho detto prima per quanto si possano comunque cambiare le rupie la nostra moneta quindi l'euro ma anche il dolo viene accettato ovunque quindi anche non solo per fare acquisti di base come per esempio un pranzo comprare delle bibite eccetera eccetera ma anche per fare shopping quindi non è un problema utilizzare anche la nostra la nostra moneta non so ci sono altre domande curiosità ok vedo che tutto tasce io ho esaurito la mia oretta di tempo abbiamo superato da pochissimo le 10 e 8 minuti direi che possiamo chiudere qui questa questa diretta spero di avervi dato qualche informazione in più rispetto a quello che magari avevate circa questa questa splendida destinazione qualora ci siano delle necessità legate magari a un possibile viaggio a un futuro viaggio potete scrivere tranquillamente qui su Evolution Travel trovate la diciamo la mail o potete lasciare un post e poi diciamo il reparto che si occupa di questa destinazione andrà mano a mano a rispondere alle richieste che verranno che verranno fatte bene io vi auguro buon proseguimento di serata vi do appuntamento al prossimo appuntamento alla prossima diretta Evolution Travel che si tiene ogni martedì e vi auguro buon viaggio per chi deciderà poi di fare un viaggio nello Sri Lanka arrivederci a tutti e grazie ciao 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 Grazie.